e uno di opposizione. Per il sì, Emanuele Fiano del Partito Democratico, per il no invece abbiamo Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Prima di far partire il confronto tra le ragioni del sì e del no, abbiamo chiesto a entrambi di spiegarci il significato politico di questo referendum. Ad ottobre gli italiani si troveranno ad un appuntamento con la loro storia, possono decidere con il loro voto se vogliono in questo paese finalmente una democrazia che funzioni meglio, una democrazia che costa di meno, una democrazia che decide di più, una democrazia che li rappresenta più da vicino. Il valore politico è che c'è in ballo il futuro dei nostri figli, lei sa che la Costituzione è il patto di convivenza tra tutti noi, me e lei e tutti i 60 milioni di cittadini italiani, ebbene questo patto di convivenza verrebbe danneggiato perché si mette tutto il potere costituzionale nelle mani di una stretta oligarchia. E ora entriamo nel merito del confronto, quali sono per Emanuele Fiano le ragioni della sì, quali ha per Danilo Toninelli le ragioni del no. Il primo motivo è che con questa riforma si vanno rafforzando gli strumenti di salvaguardia della democrazia. Noi rafforziamo il quorum per eleggere nel Parlamento il Presidente della Repubblica che quindi sarà ancora di più rappresentante di tutti gli italiani e non solo della maggioranza che esprimerà il governo. Ampliamo la possibilità con il referendum per gli italiani, abbassando il quorum se saranno raccolte 800 mila firme, di abrogare le leggi che alla maggioranza degli italiani non piacciono. La prima ragione è per la falsità con cui è stata portata avanti questa revisione. Si dice ai cittadini che viene abolito il Senato, il Senato rimane in vita e viene composto da chi? Dalla classe politica che praticamente è quella che porta con sé il maggior numero di condanne e di indagini per reati contro la pubblica amministrazione. La seconda ragione è quella che finalmente noi permettiamo una democrazia più rapida nella approvazione delle leggi. In questa legislatura sono state approvate 260 leggi fino ad adesso. Solo 7 di queste, se la riforma verrà approvata dagli italiani, avrebbero di nuovo un passaggio bicamerale perfetto, mentre 253 delle leggi che abbiamo approvato avrebbero un andamento fino all'approvazione finale che durerà qualcosa di più di due mesi. Quindi una grande accelerazione perché rispondere rapidamente agli italiani sui loro problemi è una necessità fondamentale della democrazia. La seconda ragione è perché a questa classe politica addirittura viene data l'immunità. Ciò ci fa pensare che cosa? Che viene creata apposta una nuova Camera, quella del Senato, per garantire uno scudo dei processi a quella classe politica di sindaci e di consiglieri regionali, soprattutto del PD, che ha dei processi. La terza ragione è che noi avviciniamo gli italiani alle istituzioni, con un Senato che sarà espressione diretta delle istituzioni territoriali, quindi composto in gran parte da consiglieri regionali e da sindaci dei loro territori. Noi permettiamo ai rappresentanti degli enti locali delle regioni di arrivare direttamente laddove si decidono le leggi. La terza ragione è quella che ci spaventa di più, è quella del caos istituzionale. Se voi leggete l'articolo 70 della Costituzione di oggi è composto di nove parole. Il nuovo articolo 70, voluto dal clan Renzi, Boschi, Verdini, è composto di 437 parole. Ed è il cuore della democrazia, cioè come si fanno le leggi in Parlamento. Da un modo si passa a dieci modi. Immaginate voi che caos istituzionale in cui cadrebbe il Paese. La quarta ragione è che con la riforma si permette una maggiore stabilità dei governi. Noi permettiamo agli italiani di esprimersi nelle elezioni con un voto che determinerà la Camera che permetterà di affidare la fiducia ad un governo. Questa volta una sola Camera. Una Camera che sarà omogenea, con una maggioranza determinata dalla legge elettorale, che permetterà quindi una maggiore stabilità dei governi. La quarta ragione è perché la Costituzione, abbiamo detto che è di tutti, non può essere intestata ad una sola persona. Renzi, quando ha affermato che andrà a casa, se passerà il no a questa revisione della Costituzione, significa che si è messo al di sopra della Costituzione e la storia ci insegna in quasi 70 anni che nessuno può mettere i piedi sopra la Costituzione perché la Costituzione sta sopra tutti, soprattutto sta al di sopra del governo. E anche questa puntata speciale...